C'è uno spettro che incombe in tutta Europa, è quello della Casa Green, la nuova direttiva europea che impone dei cambiamenti dal punto di vista delle classi energetiche sia per l'edilizia privata che per l'edilizia pubblica, quella privata però addirittura già nel 2030 in classe E e nel 2033 in classe D. Ne parliamo oggi per il nuovo appuntamento del podcast di Rubino News Immobiliari, io sono Gennaro Delcore, giornalista e comunicatore e con me c'è ancora Andrea Rubino, il presidente del gruppo. Benvenuto. Allora la classe energetica di un immobile è ormai un elemento, un drive di scelta come dicono quelli bravi perché riguarda direttamente il portafoglio delle persone oltre che una certa attenzione al tema ambientale. Che esperienza avete in materia e qual è la posizione che il gruppo mantiene rispetto a questa normativa? Io di questo argomento ne ho parlato anche scritto più volte e farei una distinzione netta. Allora se io mi accingo a comprare una casa nuova è chiaro che io devo vedere di che classe energetica sarà nel momento in cui è completata. La classe energetica che va dalla A più fino alla G attualmente come dicevi prima è chiaro che molti immobili sono in classe G e pochi sono in classe A perché dopo sono quelle case nuove oppure le case completamente ristrutturate con determinati tipi di accorgimenti. Quindi se compro la casa nuova senza altro io devo vedere che classe è, che quanto mi fa risparmiare o che altri che impianti che ho, che posso avere a pompa di calore, posso avere il fotovoltaico, posso avere la caldaia e condensazione. Quindi è chiaro che queste cose ne devo ben vedere. Se invece compro la casa da ristrutturare perché dopo è chiaro che nelle città parliamo di Bari, Bari c'ha un centro murattiano, centro cittadino dove costruzioni nuove sono pochissime perché dopo sono dovute ad abbattimenti di vecchi palazzi, ma ne sono poche. Parliamo un esempio di centri storici, ora Bari c'è un centro storico che finalmente è diventato con la maiuscola per vari motivi, ma se andiamo a vedere le case del centro storico di Bari, di Bari vecchia, è chiaro che non è che possiamo trovare i mobili nuovi, possiamo trovare i mobili ristrutturati. Però ecco, se io devo andare a comprare una casa lì, sì posso vedere questo elemento, se compro già ristrutturato oppure devo andare a ristrutturare, quindi devo fare altre considerazioni. Dal punto di vista di chi vende casa invece, può essere utile effettuare a priori dei lavori per migliorare la classe energetica, cioè passare dalla classe G a classi superiori? Valorizza così tanto l'immobile che vale la pena investire in proprio? Allora, ecco qua dipende, dipende che intenzioni si ha, ecco se si ha una casa che è da ristrutturare e la si vuole vendere, allora io non consiglio di fare interventi per migliorare la classe energetica, perché se io devo vendere la casa da ristrutturare è chiaro che ci sarà il periodo valutatore che valuterà il valore di quella che è la casa da ristrutturare. Chi compra la stessa cosa, perché chi compra appunto l'usato da ristrutturare, da ristrutturare, da ristrutturare e quindi dopo di che farà tutti gli accorgimenti per poter migliorare la sua classe energetica. Che devo dire, una delle cose essenziali può essere anche l'infisso, ora mette gli infissi di nuova generazione in pvc, è chiaro che ci sono ora, diciamo la tecnologia è arrivata abbastanza in alto, ma l'infisso può già dare un grosso risparmio energetico, ma anche la pompa di calore che è sempre elettrica oppure anche la semplice caldaia a condensazione a gas, anche se dopo si dice, almeno a livello europeo, che anche queste caldaie devono essere eliminate, però sono interventi che, ho detto, se uno ha una casa da ristrutturare, allora è chiaro che se aspetta il 2030, dopo di che è chiaro che le cose possono un po' peggiorare, forse se ha decisivi vendere, America la vende subito, così si toglie il pensiero, non ha la scadenza impellente di dover dire, beh scade, o la devo ristrutturare, o devo fare questi cambiamenti, quindi spendere soldi oppure vendere, quindi è preferibile che se uno deve vendere, la decida subito, non attendere il 2030. Va bene, anche noi non attenderemo il 2030, grazie Andrea per essere stato con noi, alla prossima.